buongiorno ragazzi come promesso motorbike spot di verona ci sono un sacco di cose bellissime che ci aspettano seguitemi come potete vedere c'è un casino di gente è veramente piena la fiera però c'è un vantaggio di questa fiera rispetto alla icma che è quello del fatto che si può veramente comprare di tutto in icma magari l'ultimo giorno si riesce a comprare qualche accessorio invece pieno zeppo di stand che vendono accessori di ogni tipo racing racing per customizzare le moto tutti abbigliamento c'è veramente di tutto è comunque che c'è una varietà di moto che va oltre l'immaginazione è pazzesco perché la fantasia qui non ha limiti la fantasia umana qua è veramente infinita in questa fiera c'è tutto uno spazio custom di moto customizzate di moto personalizzata dove le cose impossibili ci sono quindi veramente incredibile e poi c'è tutta un'area di moto sportive dove siamo arrivati adesso dove ci sono i principali brand di moto super sportive sportive turistiche finalmente riesco a vedere il cbr mille fra i bled dal vivo ragazzi indovinate che è lui lui è roberto roberto che ha vinto il biglietto perché ha l'orecchio più allenato d'italia ed è riuscito a riconoscere i cinque stand delle cinque moto che vi ha proposto quindi lui è il vincitore del biglietto ci siamo visti qua in fiera ci siamo presi un caffè e devo dire che per me è stato un gran piacere lo stesso anche per me e grazie mille stefano per la giornata ciao ragazzi ragazzi l'avete riconosciuto è nasca finalmente ci siamo vicini naturalmente invaso da tutti i fan e tutti i follower ciao alberto ilСпirino ciao ragazzi dvotopassion ciao stefanino ciao grazie ciao cilentro guarda qua che modello come sei fotogenico e anche per l'abbigliamento c'è veramente un sacco di posti dove si può comprare e devo dire che i prezzi sono davvero ottimi e adesso tra poco comincerà la presentazione del team superbike Yamaha Kapata dove corre Van de Mark e ci saranno anche i piloti anche il suo nuovo compagno di squadra il turco che arriva dalla Kawasaki ragazzi qua c'è Van de Mark a due passi eccolo qua tra poco comincerà le interviste questa è l'originale ringrazio Van de Mark che si fa intervistare sono pronti per la nuova season? sempre pronti, l'interno è stato molto lungo e sono pronti per raccogliere abbiamo avuto alcuni testi prima che è sempre buono ma per l'altro voglio raccogliere e il tuo nuovo amico, sei preoccupato? non, non mi preoccupi, sappiamo che ci saranno più veloce e spero che insieme possiamo combattere per la victoria ok grazie molto ci sono stato molto bello Ciao a tutti